Questa mattina desidero leggere con voi un testo dal libro di Neemia, leggiamo dal capitolo 4, 4, leggeremo alcuni dei versi iniziali di questo capitolo per poi eventualmente spostarci in qualche altro testo del libro, per cercare di mettere insieme alcune riflessioni su quanto abbiamo già ascoltato dall'inizio di questa nostra riunione, ossia l'importanza della scelta, ossia l'importanza di prendere delle decisioni. E la storia di Neemia ci racconta di un uomo che era al servizio del re che aveva deportato parte del popolo di Israele. Siamo quindi fuori dei confini di Gerusalemme, della Giudea, siamo alla corte del re Assiro, Artaserse, e Neemia era il coppiere del re. Era un giovane, una persona il cui cuore era legato alle proprie tradizioni, alla fede del suo popolo. E credo che per larghi e lunghi tratti conosciamo la sua storia, quando lui viene informato che a Gerusalemme la città è diroccata, le mure vanno in rovine, il tempio è ancora distrutto. Lui non resta indifferente, anzi tutt'altro. Quando quelle notizie giungono al cuore e alle orecchie di Neemia, nel capitolo prima noi possiamo leggere che egli racconta di aver pianto. E dopo aver pianto, di aver digiunato e pregato per chiedere e per ricevere da Dio delle indicazioni su che cosa fare. Quindi la figura di Neemia ci parla di un individuo, di chi, davanti a delle situazioni che possono apparire difficili, tragiche, non affrontabili umanamente, non si volge altrove, non dice a me, non me ne importa. Che posso fare? Ci penserà qualcun altro. Ma mette in discussione la sua vita e addirittura allardire il coraggio di andare dal re Artasers e di esporgli il problema. E c'è una sottile verità che accompagna la storia di Neemia. Ed è la convinzione che se Dio pone qualcosa nel cuore di qualcuno, Dio farà sì che quella cosa accada in un modo o nell'altro. Se Dio ha stabilito che qualcosa si faccia, le porte che sembrano inespugnabili si apriranno da sole. E Neemia quando racconta, espone al re il desiderio del suo cuore, gli palesa la sua amarezza per la sua città, per la sua fede, per il suo popolo, cosa che Neemia mai avrebbe potuto ipotizzare, il re Artasers gli concede di tornare a Gerusalemme. E non solo concede a lui di tornare a Gerusalemme, ma gli fornisce tutto il materiale, gli strumenti per la ricostruzione. Gli dà degli uomini che gli facciano da guardia una milizia che possa accompagnare lui e successivamente altri. Noi leggiamo dal capitolo 4, dal punto in cui Neemia dopo aver di notte ispezionato la città, dopo aver aperto poi il suo cuore alle persone importanti della città, e quando lui racconta loro quello che nel suo cuore aveva fatto questo invito, leviamoci e mettiamoci a costruire. E le parole di Neemia avevano riscosso la risposta di quelli che lo avevano udito. Infatti al capitolo 3 voi potrete leggere che quelli che lo hanno ascoltato presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. Quando qualcuno ha nel cuore di far qualcosa per il bene di tutti, non si ritroverà da solo. Troverà il supporto, troverà la vicinanza, troverà la collaborazione di altri che hanno lo stesso sentimento, lo stesso desiderio, ma forse non hanno il coraggio di cominciare. Ma se c'è qualcuno che comincia, quelli che erano indecisi, quelli che non avevano la forza di cominciare, vedendo quello, cominciano anche loro. E questo è quello che noi ci auspichiamo possa succedere in tutte le attività della Chiesa, ma anche nelle attività che riguardano il bene della società. Però quando qualcuno si muove, quando un gruppo di persone poi si unisce e si comincia a fare qualcosa di buono, il capitolo 4 ci dice, e leggiamo insieme, Quando Sambalat venne a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si adirò, si indignò grandemente e schernì i giudei, e disse ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria, che cosa stanno facendo questi rammolliti giudei? Si fortificheranno, offriranno sacrifici, finiranno in un giorno, faranno forse rivivere le pietre consumate dal fuoco, dai mucchi di macerie? Tobia, l'ammonita, che gli stava a fianco, disse, costruiscono pure, ma se una volpe vi sale sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Questo è un classico della vita. Questo vale nel mondo delle cose spirituali, questo vale nel mondo delle attività ecclesiali, questo vale nel mondo della società, nella politica, in ogni parte dell'esistenza umana. Dovunque ci sono delle persone animate per il bene, ce ne sono altre tante che non vogliono il bene. Per la sede, se da una parte c'è qualcuno che si affatica a costruire, ci sarà sempre quello che lavorerà a demolire. Se da una parte c'è qualcuno che si adopera a dimostrare che c'è qualcosa di buono, ci sarà sempre quello che andrà a scovare tutti i difetti. Voi ricordate cosa accadde con le spie inviate in terra di Canaan? Quando questi tornano e raccontano a Giosuè e agli anziani, che bel paese! scorre latte e miele. C'è frutta, c'è cibo che noi non abbiamo mai visto. E ne avevano portato delle prove con loro. La scrittura parla di pigne d'uva trasportate a spalla. Quindi c'era tanta roba buona, bella, appetibile e solo due, solo due sostengono. Il Signore ce l'ha dato. Andiamo fiduciosi. Solo due su dodici. Perché altri dieci dicono no. Sì, è vero che ci sono tutte queste cose belle, buone, che il paese è desiderabile, però ci sono i giganti. Vi abita un popolo che è troppo grande per le nostre possibilità. Uno su sei. Dice il Signore ce l'ha dato. Su sei, cinque dicono non ne vale la pena. E voi pensate che la proporzione sia cambiata. Io ci metterei la firma su sei credenti di averne uno che dice si può fare e cinque che dicono non si può fare. Questa mattina voglio invece credere e pensare che la maggior parte dei presenti sono tra coloro che davanti al bene che Dio ci chiede di operare siano per la maggior parte pronti a dichiarare si può fare. Con il Signore si può fare. Tobia Sambalat Sambalat personaggi di dubbia fama personaggi che quando vengono a sapere dell'iniziativa di Nehemia al capitolo 2 al verso 10 c'è scritto furono grandemente turbati perché era giunto un uomo che cercava il bene dei figli di Israele fino a quando voi portate rovina portate distruzione portate guai vi rispettano vi applaudono trovate consensi approvazione se invece decidete di cambiare modo di vivere se invece decidete di adoperarvi a ricostruire innanzitutto le rovine della vostra vita di adoperarvi a tappare i buchi che gli altri hanno creato di voler sanare le ferite che i guai i torti le azioni degli altri hanno provocato nella vostra casa nella vostra famiglia sapete qual è il giudizio? è quello che abbiamo letto questa mattina Sambalat dice a quel gruppo di persone questi sono dei rammolliti giudei quando tu decidi di fare quello che gli altri non hanno il coraggio di fare di tirare fuori le mani dalle tasche e di metterti a faticare per costruire qualcosa di buono di fare il bene non tuo ma il bene di tutti quando comincio a dichiarare agli altri io ho deciso di vivere una vita diversa perché il peccato ha rovinato le mure della mia città il peccato ha sfondato le mure della mia casa ma da oggi ho deciso insieme a quelli che Dio ha posto attorno a me di lavorare di faticare di fare anche dei sacrifici degli sforzi di adoperarmi con tutte le mie risorse tutte le mie energie per rialzare le mura nessuno ti batterà le mani ma diranno di te questo è un rammollito cioè uno vuole faticare vuole sudare è un controsenso è rammollito chi se ne sta con le mani nelle mani il rammollito è chi sta buttato fuori a un bar dalla mattina alla sera il rammollito è quello che non esce di casa per andarsi a cercare il lavoro il rammollito è quello che guarda attorno e dice mamma che me ne frega però molti si lasciano condizionare molti tengono molto di più all'opinione al giudizio degli altri ma i nostri uomini quando odono le parole quando vengono a sapere delle parole di Sambalat delle parole di Tobì vabbè facciamoli costruire vediamo quanto dura quanto dura non ti hanno mai detto voglio proprio vedere quanto tempo duri voglio proprio vedere se sei capace di vivere in maniera onesta cristiana per tutta la tua vita per quanto tempo dura io non lo so per quanto tempo dura però io posso dire insieme a voi sta durando oggi dura oggi se siamo qui è perché la nostra scelta la nostra decisione va avanti Enemia cosa fa si accorge della difficoltà il verso 16 noi dunque ricostruimmo le mura che furono congiunte assieme fino a metà della loro altezza nonostante le critiche si erano rialzati muri a metà ma la cosa più bella di questo verso è la seconda parte il popolo aveva preso a cuore il lavoro quando ti accorgi che la fede che stai cominciando a credere e a vivere è qualcosa che non solo ti fa stare bene ma che sta trasformando la tua vita che sta facendo di te una persona diversa e soprattutto sta facendo di te una persona migliore arriva questa maturazione di te prendi a cuore il lavoro che hai cominciato perché se quello che stai facendo lo stai facendo con il cuore e per cuore vi ricordo che gli ebrei non intendono i sentimenti come li intendiamo noi quando si dice una cosa fatta con il cuore se che è partita dall'interno l'espressione con il cuore per gli ebrei intende con tutta la propria vita perché siccome il cuore è il muscolo che pompa la vita dire con il cuore vuol dire con tutto noi stessi vuol dire con l'intera nostra esistenza ma al di là del nostro impegno ricordati che ci saranno sempre quelli che cercheranno di congiurare di attaccare la Gerusalemme della tua vita e di creare disordine verso 7 quando Sambalat Tobia gli arabi gli ammoniti gli asdodei qua potremmo dire quando gli amici di case i parenti i casalisi i casapesenisi i sanciprianisi i villali ternisi vennero a sapere che la riparazione delle mure di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi si adirarono grandemente e tutti congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi disordine tu te ne stai per i fatti tuoi hai scelto di non dare fastidio a nessuno e più cerchi di non dare fastidio a nessuno più fastidi ricevi tu non lo fai agli altri ma gli altri continuano a farlo a te e allora ti ricordi di che cosa significa porgere l'altra guancia di avere quella forza che non è umana ma è la forza che solo Dio può concederti di girarti dall'altra parte e di dire andiamo avanti che se qualcuno viene e ti porta via il mantello tu lo fermi e gli dici ma fa una cosa pigliati pure la tonica però nel momento che ti sei pigliato il mantello e che ti ho dato la tonica mi lasci in pace non è che ti pigli il mantello ti do la tonica e poi viene a pigliarti pure le mutande il giorno dopo Nemia si arma di quella che è la nostra più potente arma ma noi pregammo il nostro Dio innanzitutto l'azione e l'atteggiamento di invocare l'aiuto del Signore primo pregammo il nostro Dio e a causa di loro ponemmo contro di loro delle sentinelle giorno e notte questo vuol dire che non si può essere superficiali che non si può dire va bene io chiedo al Signore il Signore provvede e mi aiuta noi invochiamo l'aiuto del Signore quale atto di fede però insieme alla fede nel Signore ci deve essere la nostra scelta di vita questi sanno che è necessario mettere delle guardie che bisogna guardarsi le spalle che bisogna guardarsi davanti e di dietro perché quando meno te l'aspetti può arrivare il disturbo il fastidio addirittura il capitolo successivo ci dice che dopo aver posto delle persone a guardia attorno alle mura ne emilia arma i costruttori i carpentieri i muratori quelli che stavano lavorando al muro li arma di spada con una mano lavoravano e con l'altra erano pronti alla difesa con una parte della nostra vita continueremo ad affidarci al Signore ma con l'altra parte dobbiamo tenere gli occhi aperti dobbiamo essere in grado nel momento in cui l'avversario scaglierà i suoi dardi dobbiamo essere pronti e svegli per saperli evitare non si può lasciarsi andare perché se ci lasciamo andare corriamo il rischio delle vergini disavvedute che si addormentarono e mentre dormivano si consumò l'olio nella lampada noi con un occhio vogliamo friggere il pesce e con l'altro guardare tutti i gatti che il diavolo è pronto a lanciarci contro se da una parte il Signore ci assiste dall'altra parte dobbiamo essere noi a vigilare sopra di noi e su quelli che il Signore ci ha affidato e nonostante le difficoltà di questi uomini nonostante i fastidi il capitolo finale arriva a dire al capitolo 6 c'è scritto al verso 15 così le mura furono condotte a termine il venticinquesimo giorno del mese di Elul in 52 giorni sono bastati due mesi meno di due mesi per ricostruire quello che gli altri dicevano non si può fare in due mesi la vita di molti di noi da così il Signore l'ha rivoltata la capovolta perché non c'è vita che si trasforma da un giorno all'altro da un giorno all'altro possiamo decidere di dedicare la nostra vita al Signore ma ci vogliono dei giorni per andare a staccare tutti i legami ci vogliono delle settimane per andare a rompere tutti i compromessi ci vogliono delle settimane per dire agli amici sbagliati io ho cambiato strada voi da una parte io dall'altra se volete seguirmi seguitemi ma io non verrò più con voi perché la mia vita l'ho dedicata alle mura di Gerusalemme e Gerusalemme rappresenta la città santa la città di Dio la dimora di Dio e parlare di costruzione di Gerusalemme vuol dire adoperarci affinché la nostra vita sia il tempio del Signore e che cosa ci dice la Bibbia il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo la nostra vita è l'edificio nel quale il Signore vuole regnare vuole dimorare Egli ci chiama Egli ci invita con amore ma poi sta a ciascuno di noi di tirarci sulle maniche e metterci a lavorare quando i lavori finiranno tutti saranno felici tranne quelli tranne quelli che si erano adoperati per bloccarli a noi il Signore non ci ha chiesto di odiare il nostro nemico Gesù ha rivoltato anche certi concetti Gesù ha insegnato di amare il nostro nemico Gesù ci ha insegnato a non fare agli altri quello che non vogliamo sia fatto a noi Gesù ci ha insegnato a cambiare modo di relazionarci con gli altri e state sicuri di una cosa che anche quelli che sembravano i nemici più acerrimi che anche quelli che giudicavano la vostra vita la vita di un rammollito quando passano i mesi quando passano gli anni e continuano a vedere la tua vita sotto la luce di Dio quando continuano a vedere che nonostante le difficoltà che tutti i giorni non mancano nella tua casa non manca nulla avranno da mettersi le mani nei capelli e domandarsi come è possibile come è possibile è possibile perché l'iddio che abbiamo conosciuto ci ha assicurato che non avremo mancamento di nulla egli ci ha promesso cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in sovraggiunta io sono sicuro che la maggior parte di voi può dire davanti a questa storia davanti a questa breve riflessione insieme a me è così si può costruire la nostra vita è stata ricostruita quanti nella condizione in cui eravamo nel guardarci avrebbero detto ma sai che c'è da fare qui è tutto da buttare a terra si fa prima a demolire che a ricostruire invece Dio non ha demolito le mura di nessuno di noi ci ha preso con i fori le crepe le macerie e con tanto amore ha riparato la nostra vita con tanto amore ci ha ricostruito con tanto amore ha ricoperto le rovine della nostra vita della sua gloria eravamo vasi di terra e dice la scrittura oggi siamo vasi ad onore e gloria del Signore vasi ripieni della sua presenza eravamo per tanti da buttare una sola cosa andava buttato il peccato che era dentro di noi il Signore ci ha preso come si pigliano delle bacinelle dei vasi ha gettato l'acqua sporca ha conservato il contenitore lo ha rilavato ripulito ha aggiustato e poi non lo ha riposto sopra di un mobile ma ha cominciato a versare dentro la vita di ciascuno di noi lo Spirito Santo la caparra dello Spirito la sua gloria la sua presenza i suoi doni io spero che nessuno di voi pensi ancora di se stesso sono da buttare eri da buttare oggi sei uno strumento sei un figlio sei una figlia di Dio sei migliore di tante persone sulla faccia della terra perché tutti quelli che non hanno Dio nel cuore possono avere i soldi possono avere il potere possono avere la fama possono avere il successo possono avere tante cose apparentemente belle ma su tutte cose che lasceranno sulla faccia della terra a tutti i costori Gesù ebbe a dire nella figura dello stolt il ricco ve lo ricordate stolt questa notte stessa la tua anima la tua vita ti sarà richiesta indietro che ne fai di tutto quello che hai accumulato Signore continua a far di noi dei vasi per la grazie a tutti